Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'altro cinema Cicolella e grazie a tutti per la vostra massiccia presenza. Pensavamo che fosse piccolo il teatro per ospitarvi tutti, effettivamente è proprio così, grazie, grazie. Quest'oggi siamo qui per, innanzitutto per rilanciare la nostra città, la nostra città che ha bisogno di orgoglio. Un uomo si riparte, si riparte proprio dal centro cittadino, dal cuore della città, dal centro storico, spesso oggetto di atti vandalici, spesso dimenticato a se stesso. Si riparte, si riparte per presentare quella che è una delle liste che sostiene il candidato sindaco Franco Landella. A parte esprimere il mio ringraziamento per essere qui questa sera, la lista è una delle sette liste che sostiene, come dicevo, Franco Landella, Destinazione Comune, già il nome è di per sé molto accattivante. Sono 32 persone, 32 cittadini foggiani, gente comune, gente che lavora nel quotidiano, padri, madri di famiglia, ma anche ragazzi, studenti, che hanno voglia di dare un nuovo senso a questa città. Grazie a tutti. Vi giuro, il colpo d'occhio dal palco è meraviglioso, grazie Franco che sei riuscito a fare tutto questo, grazie. Poco fa chiacchieravo con i tuoi candidati, si parlava un po' di quella che è stata Foggia, di quella che è diventata Foggia negli ultimi tempi. Noi ora ve lo mostriamo con questo video, a voi ogni commento, grazie. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, che sale. Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale, che sale, fa male. Corre allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte, e resto sola con me. La testa parte e va in giro, in cerca dei suoi, perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito, anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale, che sale, fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare, è più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta, ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è, seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria, sono parole a metà. Abbiamo visto una Foggia maltrattata, mortificata. Abbiamo visto una città abbandonata, ferita dal malgoverno e dall'insensibilità di chi per dieci anni l'ha amministrata. Abbiamo perso l'entusiasmo e l'orgoglio di essere cittadini di Foggia. Abbiamo perso l'entusiasmo e l'organizzazione di Foggia. Oggi possiamo rimetterci in cammino insieme. Insieme possiamo finalmente restituire una speranza alla nostra città. A presto. 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 hobby, bicicletta, segni particolari, cocciuta, dicono di lei determinata, si candida perché il futuro dei nostri figli lo costruiamo oggi. Pasquale Cataneo, forza con gli applausi, Pasquale Cataneo, 50 anni, professione, funzionario, hobby, cultura, segni particolari, mette sempre gli altri prima di se stesso, dicono di lui Testardo, si candida per servire il popolo foggiano. E la volta di Giuseppe Conte, età 56 anni, professione, ufficiale dell'esercito italiano, hobby, il e la pesca, segni particolari, molto ordinato, dicono di lui, ostinato dal cuore d'oro, si candida per essere corrente con le sue idee di centro-destra. Marina Corvino Età 35 anni, professione commerciante, hobby, ascoltare musica live e leggere, segni particolari, disponibile, dicono di lei, dinamica, capante e comprensiva, si candida per vivere orgogliosi della nostra città, Maria Assunta Delia, età 30 anni, professione geometra, hobby, oziare, non ti sarà più concesso poi, segni particolari, segni particolari, leale, dicono di lei, è una donna che non molla mai, si candida per risollevare la città di Foggia. Salvatore De Martino Età 30 anni, professione commercialista, hobby, il mio Foggia, attenzione agli striscioni, segni particolari, instancabile, dicono di lui, non sa fare a meno degli amici e si vede, si candida per, si candida per cambiare Foggia, Giussi Di Brisco, Giussi Di Brisco, eccola qui la nostra Giussi, età 37 anni, professione consulente del lavoro, hobby, leggere e fare sport, segni particolari, dice in faccia le cose che pensa, dicono di lei, solare, si si candida per la difesa dei valori. Michela Falcone Michela Falcone, 33 anni, professione infermiera, hobby, da 7 anni, viaggio per lavoro, segni particolari, ama gli animali perché sono i più fedeli, dicono di lei, determinata, si candida per dare maggiore attenzione ai disabili e meno agli abietti. Antonella Fusillo Antonella Fusillo, ha 40 anni, è un amministratore condominiale, ha lobby dell'atletica leggera, segni particolari, voglia di fare, dicono di lei, ottimista, si candida per curare la città. Michele Granatiero, ha 45 anni, è un funzionario pubblico, ha lobby della barca, segni particolari, profilo greco, vuoi mostrarlo al pubblico, dicono di lui, tecnicamente preciso, si candida per rispondere all'appello di Franco Landella. È la volta di Massimo Granato. Ha 51 anni, prego, al centro del palco, i tuoi applausi. Ha 51 anni e un pediatra ama la lettura e la natura. Segni particolari, passione per il lavoro, dicono di lui, affidabile, si candida per contribuire a creare un futuro migliore per la nostra città. Tamara Ieluzzi Tamara ha 35 anni ed è un avvocato, organizza eventi, segni particolari, sorridente, dicono di lei, ammazzare tra le nuvole, si candida per rinnovare foggia. Rosa è il fatto suo, si candida per la nostra foggia. Rosa in pagliatelli, eccola la nostra Rosa. Rosa ha 40 anni e un avvocato, all'opi del paracadutismo. Segni particolari, perfetta. Dicono di lei, ammazzare tra le nuvole, si candida per rinnovare foggia. Antonio Ladaga. L'Antonio Ladaga è un nostro candidato nella civica di Franco Landella. Purtroppo in questo momento è assente per problemi di lavoro, però a lui rivolgiamo un calorosissimo applauso. Andiamo a ricordare quella che è comunque la scheda tecnica di Antonio Ladaga, 44 anni, professione guardia giurata, hobby della box, segni particolari, tatuaggi, dicono di lui molto preciso, si candida per far sì che foggia, esca dal degrado. Emilio Lamanna, 44 anni ed è un avvocato, all'opi del volontariato, segni particolari, allegro, dicono di lui molto tranquillo, si candida per una foggia migliore. Annalisa Lambiase. La giovanissima Annalisa Lambiase ha 21 anni, studentessa in scienze della formazione, ama la scrittura e sta per concludere sul suo primo lavoro editoriale, segni particolari, socievole. Dicono di lui eccessivamente spontanea, si candida perché le piace affrontare le sfide. Gianluca Maffei. 33 anni, praticante e avvocato, suona la batteria, segni particolari, la pelata. Foggia, dicono di lui troppo pignolo, si candida per rendere Foggia una città vivibile. E' la volta di Vittorio Mancini. 28 anni, tutti giovanissimi i nostri candidati, tutti giovanissimi, professione studente. Obbi, il Foggia e l'Inter, soprattutto il Foggia, un applauso. Segni particolari, ordinato e preciso, dicono di lui è troppo pesante. Si candida perché Foggia torni a sorridere. Daniele Mopilia, Daniele Mopilia, ha 55 anni, è un bancario, si dedica alla gente e al volontariato. Segni particolari, Favonio per la sua velocità, dicono di lui è disponibile. Si candida perché Foggia ha bisogno di noi. E' la volta di Francesco Morese, Francesco Morese. La tifoseria, eh? Francesco ha 40 anni, è un ispettore sanitario, ha lobby del calcio, è innamorato dei colori rossoneri, attenzione. Dicono di lui, troppo disponibile. Si candida per portare Foggia in Serie A. Mauro Pagano. Mauro Pagano è un commercialista di 51 anni, ha lobby del tennis, segni particolari repubblicano, dicono di lui, persona concreta. Si candida per fare di Foggia una città moderna. Un'altra donna è la volta di Marisa Pellegrino. Marisa Pellegrino ha 49 anni, è un assiliare socio-sanitario, ha lobby del canto, segni particolari caparbia. Dicono di lei, disordinata, si candida perché i foggiani meritano di stare al meglio. Concetta perdonò, concetta perdonò. Un'altra giovane trentenne foggiana, presidente di una cooperativa sociale del 118, a lobby della palestra. Segni particolari, il solare, lo si vede dal sorriso, dicono di lei, lotta per le cose in cui crede. Si candida perché la politica è partecipazione. E' la volta di Buonaventura Russo. Ha 47 anni ed è un commercialista e revisore dei conti, a lobby del tennis, segni particolari, deciso. Dicono di lui tante belle cose. Si candida per mettere a disposizione di Foggia la sua competenza. Pasquale Schiavone, trentunenne, lavora nell'azienda di famiglia, lobby dello sport, segni particolari, la stazza. Dicono di lui, le sfide non lo spaventano mai, sarà merito della stazza, forse per quello. Si candida per contribuire allo sviluppo della città. Joseph Splendido. Ancora un avvocato di 46 anni nella lista civica destinazione comune, a lobby dei correre in moto. Attenzione, segni particolari, chiacchierone. Dicono di lui, chi ha le cravasse è bello. Si candida perché non ha paura di metterci la faccia. Ancora una donna, Anna Maria Tiritiello. Eccola la nostra impiegata di 44 anni. Ha tanti hobby, se solo avesse il tempo di praticarli. Segni particolari, non alta, ma all'altezza della situazione. Dicono di lei, super mamma impegnata. Si candida perché i nostri figli si sentono orgogliosi di vivere in una città civile. Antonio Vigiano. Avvocato di 43 anni all'hobby del tennis. Segni particolari, preferisci la concretezza alle chiacchiere. Dicono di lui, lavora sempre. Si candida per dare una mano a Franco in questa avventura. Ed è la volta dell'ultima candidata, Brigida Villani. Il nostro medico di 49 anni all'hobby della lettura. Segni particolari, dicono che sia molto convincente, simpatica, divertente ed umana. Si candida per far rinascere la nostra città. Bene, questi sono i 32 candidati della lista destinazione comune di Franco Landella. Franco, è il tuo momento. Vengo a prenderti, ti accompagno sul palco e ti lascio tra i tuoi candidati. Ancora un applauso. Franco, ci sono gli striscioni in fondo alla sala. Allora, grazie a tutti. Grazie. È l'ennesima manifestazione di affetto nei miei confronti. Cari amici, questa non è la lista mia del sindaco, ma è la lista di gente che attraverso la loro professione, attraverso la loro vita quotidiana a servizio della gente nell'associazionismo, hanno dimostrato di amare Foggia. E allora questa lista, con il nome destinazione comune, ha un significato particolare. Il nostro destino in un'azione comune, quella di salvare Foggia e di farla ritornare agli antichi splendori. Questo è il nostro destino in un'azione comune. E allora, cari amici, noi abbiamo di fronte una sfida importantissima e complessa nello stesso tempo. Il 25 di maggio i Foggiani sono chiamati ad affrontare un bivio, saranno di fronte a un bivio. Da una parte voltare pagina e dall'altra perseguendo i dieci anni di falimento della sinistra. Da una parte la voglia di cambiare, la voglia del riscatto, la voglia di abbracciare una stagione fatta di risultati concreti. Dall'altra parte la strada che ha portato la nostra amata città in miseria, in rovina. Questo è il bivio che i Foggiani dovranno affrontare il 25 di maggio e dovranno scegliere. Se scegliere la strada del cambiamento, del rinnovamento oppure perseguire nella strada delle sinistre che hanno fatto fallire questa città. Questo è il compito ardo che i cittadini di Foggia dovranno affrontare il 25 maggio. Vedete, cari amici, quando ho meditato di scendere in campo, ho riflettuto in maniera considerevole, in maniera profonda. Io ho pensato in quel momento al dissesto dei conti del Comune di Foggia. Ho pensato al baratro della bancarotta finanziaria che solo grazie all'intervento dello Stato e al decreto salvaenti purtroppo si è salvato una camicia di forza che sarà questo decreto salvaenti perché ci imporrà delle condizioni e dei vincoli di bilancio. Ho pensato in maniera profonda soprattutto al falimento dell'amica e mi ricordo purtroppo quella pagina in fausa di quel Natale del 2012 dove la nostra città è stata sommersa dai rifiuti. Ho pensato ai teatri chiusi e ai teatri chiusi al degrado culturale. Ho pensato agli impianti sportivi abbandonati. Ho pensato alle ex municipalizzate ormai ridotte al collasso, pieni di debiti. Ho pensato, cari amici, alla caduta del peso politico soprattutto a livello regionale, basti pensare come ci hanno trattati per quanto concerne il prolungamento della pista del Ginolisa. Basta pensare come ci ha trattati la regione per quanto riguarda il comparto della sanità. Ho pensato soprattutto a quelle famiglie di Foggia che in un momento particolare per una crisi economica che invece di trovarsi un amico comune che li potesse sostenere in un momento difficile si sono ritrovati un comune ostile che non ha perso tempo di aumentargli le tasse. Ho pensato soprattutto all'orgoglio, l'orgoglio ferito, l'orgoglio di essere foggiani che purtroppo abbiamo percepito sulla nostra pelle a causa di dieci anni di fallimento e che hanno portato anche ai cittadini italiani purtroppo a guardarci con molta diffidenza. Allora ho pensato che non potevo sottrarmi da questa sfida, non potevo rimanere inerme vedendo la mia città che stava scivolando nel baratro. Allora ho ritenuto necessario scendere in campo per tentare di salvare la mia città. Questa è stata la mia scelta. E allora, cari amici, cari amici, questo è un momento decisivo e io ho perseguito per accettare questa sfida, ho perseguito, ho rincorso soprattutto un elemento fondamentale che rende la politica credibile. Quella dell'unità del centro-destra l'ho ricercata e l'ho trovata. Quindi grazie a questa unità colgo l'occasione di salutare i vari rappresentanti dei partiti ma in maniera particolare una persona che rappresenta la storia di Foggia, un sindaco che è Vittorio Salvatori. Vittorio, grazie. E allora l'unità del centro-destra è sinonimo di garanzia, è sinonimo di quella credibilità che la politica ha persa. Se pensiamo alle sinistre che si facevano vanto delle primarie e sappiamo lo spettacolo indecoroso che hanno dato. Quindi oggi con la loro litigiosità, con la loro divisione e con il loro falimento oggi le sinistre hanno persino il coraggio di presentarsi ai foggiani. Con che coraggio direi? Con che coraggio? Invece noi ci presentiamo uniti e compatti perché vi vogliamo regalare un sogno, quella di far rinascere la nostra città. Noi, il centro-destra, abbiamo lasciato dieci anni, dieci anni fa, una città viva, una città prosperosa. Le sinistre ce l'hanno fatta fallire. Allora il compito a noi di far rinascere la nostra amata città, a noi del centro-destra dovremmo prendere per mano la nostra città e la faremo ritornare a vivere. Grazie soprattutto a voi. E allora noi faremo rinascere la nostra città. Il popolo di Foggia, il popolo del centro-destra ha voglia di riscattarsi. E allora la politica deve cambiare. Sì, cari amici, deve cambiare la politica perché oggi deve essere una politica seria, trasparente. E per essere seria e trasparente la politica deve dire con chiarezza le cose che si possono fare e le cose che non si possono fare. Ma cari amici, oggi il cambiamento deve essere anche da parte dei cittadini che non devono vedere più il Comune come il punto per soddisfare i propri bisogni, i propri egoismi. Ma il Comune deve essere la casa di tutti. Quindi il cittadino deve cambiare anche mentalità. Sentirsi protagonista, interrogarsi non che cosa può fare il Comune per me ma che cosa posso fare io da cittadino di Foggia per la mia città, per il mio Comune, per la mia collettività. Questo è il cambiamento che dobbiamo insieme affrontare con molta chiarezza. Il Comune non deve essere più visto come una fabbrica che garantisce il posto fisso ma il Comune deve garantire e deve erogare i servizi pubblici in cambio delle tasse che pagano i cittadini. Questo significa essere seri, questo significa il vero cambiamento della politica nel rapporto con i cittadini. Quindi con questo segno di chiarezza, di trasparenza io penso che possiamo dare speranza ai nostri cittadini attuando concretamente programmi a costo zero e guardo con interesse alla realizzazione di un piano del commercio, guardo con interesse all'adozione di un piano per gli insediamenti produttivi, guardo con attenzione l'adozione del piano urbanistico generale soprattutto per quanto concerne la riqualificazione del centro urbano. Quindi questi sono atti di programmazione a costo zero che non vanno a inficiare sulle casse del comune e che possono veramente rivitalizzare la nostra città. Questi atti di programma possono consentire all'impresa di investire, all'impresa di crescere, a loro il compito di sviluppare, a loro il compito di creare ricchezze, a loro il compito di creare benessere ma soprattutto a loro il compito di creare lavoro, quel lavoro che i giovani oggi purtroppo soffrono con un tasso di disoccupazione elevatissimo e questi giovani sono costretti purtroppo ad emigrare, a valorizzare le loro professioni in altre città. Con questi programmi, attraverso questi investimenti, noi cambieremmo il motto non più fuggi da Foggia ma resto a Foggia! Allora cari amici fatti concreti, noi abbiamo l'obiettivo di garantire i servizi pubblici e di salvaguardare soprattutto i livelli occupazionali. Noi abbiamo l'obiettivo cari amici di creare attraverso il piano sociale di zona e parliamo di 16 milioni di euro che purtroppo oggi sono stati spesi creando forme di assistenzialismo e di clientelismo finalizzati allo scambio del voto elettorale. Non è più così. Il piano sociale di zona deve essere restituito alle associazioni cattoliche, deve essere governato dalle associazioni laiche che in questi anni distanti dai riflettori e in silenzio hanno sopperito al vuoto dell'istituzione comune. In silenzio sono andati incontro alle esigenze delle famiglie. Allora loro deve essere dato il compito di governare il piano sociale di zona, di governare questi 16 milioni di euro perché loro hanno dimostrato con i fatti con le capacità con le loro qualifiche di governare e di saper dare risposte concrete al significato di povertà sociale. Allora il compito di aiutare questa terra e lo hanno dimostrato ecco perché ritengo essenziale che noi dovremmo costituire io l'ho chiamata la giunta delle parrocchie ma la possiamo chiamare la consulta la consulta del mondo cattolico la consulta delle associazioni laiche la consulta anche del mondo produttivo a loro va il nostro grido di aiuto con loro vogliamo confrontarci con loro vogliamo costruire una nuova foggia non una foggia isolata con una politica autoreferenziale ma una politica che grida con forza di essere aiutata e di essere accompagnata di mettere a disposizione le migliori risorse per questa città questo è il vero cambiamento che noi vogliamo fare a loro lanciamo un appello aiutateci a far crescere foggia allora noi abbiamo l'obiettivo di dare concretamente il senso alla parola sicurezza e legalità e lo faremo con atti concreti perché creeremo dei presidi dei vigili urbani nei quartieri che devono essere non solo il presidio della sicurezza affinché facciano sentire i residenti di questi quartieri sicuri ma diventano un fatto concreto un'azione concreta per la lotta all'abusivismo e alla contraffazione quel fenomeno che purtroppo ha messo in ginocchio il mondo del commercio questo significa garantire sicurezza e legalità ma soprattutto la legalità cari amici dovrà essere accompagnata con un segnale forte io l'ho detto prima che avvenissero gli arresti al comune di Foggia prima che avvenisse lo scandalo al comune di Foggia non saranno più i dirigenti del comune attraverso le commissioni ad affidare ad aggiudicare lavori pubblici ma questo compito noi lo daremo alla prefettura con la stazione unica appaltante quindi non più un comune appaltatore ma un comune esecutore dei servizi pubblici nel sorcro della legalità allora cari amici a voi a voi il compito di riscattarvi di riscattare questa città e lo dobbiamo fare non non facendoci cadere nel ricatto del balottaggio sì perché quello è un pure e vero ricatto il ricatto del balottaggio perché sarà frutto purtroppo del compromesso politico di quell'azione brutta che molte volte la politica è costretta a fare per andare avanti quel compromesso cari amici lo pagherete voi lo pagheranno i cittadini perché ogni atto frutto partorito grazie al ricatto del balottaggio sarà un atto che avrà come proprio gene gene il compromesso e quindi si ritarderanno tutte quelle azioni noi vogliamo invece una politica forte decisa che dia immediatamente risposte alla gente quindi non vogliamo che la città cadi sotto il ricatto non vogliamo il ricatto del balottaggio vogliamo vincere al primo turno allora a voi a voi a voi cari amici il compito del riscatto a voi il compito di rinascere e far rinascere Foggia insieme cari amici insieme possiamo riscattare la nostra città insieme cari amici possiamo dargli quel vigore di una volta quello splendore di una volta insieme possiamo ritornare a essere orgogliosi di chiamarci Foggiani insieme cari amici possiamo ridare la speranza e il futuro ai nostri giovani e alla nostra terra insieme cari amici possiamo far ritornare Foggia a essere il fiore all'occhiello della Puglia il fiore all'occhiello del Mezzogiorno d'Italia insieme possiamo farcela insieme ce la dobbiamo fare insieme ce la faremo insieme insieme